E così il governo è riuscito a far pagare attraverso la bolletta elettrica il canone a tutti, anche più disagiati, soprattutto coloro al quale il governo ha 289 euro al mese, la categoria degli invalidi civili. Per dare 100 euro alla RAI, il canone, col quale può pagare stipendi d'oro a dirigenti e pseudotali e soprattutto a coloro che non lavorano. Questo per dire che il governo avrebbe dovuto esentare queste categorie disagiate così come avrebbe dovuto sapere e conoscere gli stipendi d'oro che prendono i dirigenti RAI. E non far finta di non sapere che prendono così tanto, perché allora vorrebbe dire che governa senza sapere cosa governa. E questa, senza dubbio, è la cosa peggiore per chi dice di voler governare. Che cose e chi non si sa, visto che non è informato su cose così importanti e soprattutto non ha nemmeno la sensibilità di esonerare coloro che prendono così poco. Perché se da 290 euro togli 100 euro per dare alla RAI, cosa resta a un milione di italiani per mangiare quel mese?